fratelli fino a questo momento abbiamo avuto tante disinfettazioni ma questo appartiene al passato oggi siamo pronti prepariamoci siamo all'alba di una nuova era oggi prenderemo questo corpo e domani prenderemo il resto del mondo e lo faremo per nostro padre mi piace e ora seguitemi verso le narici ma che succede no lasciami lavati le tue di mani brutta pupazza di carta che non sei altro certo che è fortissima per essere di carta però parla proprio come un infermiera non mi voglio lavare nocciolina gli ha dato il 5 e da allora si rifiuta di lavarsi non dire cretinate tevi la doccia me la faccio regolarmente mia cara come ti sei perso nelle fogne no c'eri anche tu nelle fogne non ero solo quando non racconterò a nocciolina le si imbiancheranno le loro dire possiamo dimenticare tutta questa storia ehi avete sentito che cosa sembrava un grido di un fogletto su uno scivolo acquattico cioè tipo o qualcosa del genere no non l'ho sentito moledetto gattaccio nel passato hai distrutto mio padre e adesso hai distrutto i miei fratelli ti troverò e ti disfetterò cioè ti fetterò e ti distruggerò e anche la tua famiglia hai capito stupida polla di pino